ciao amici anche a voi piace preparare l'avocado toast fatemelo sapere nei commenti un toast con l'avocado è da provare io lo adoro fino a qualche anno fa per noi italiani l'avocado era un frutto tropicale sconosciuto grazie alle sue virtù e alla sua popolarità è arrivato anche sulle nostre tavole per creare un avocado toast nel modo giusto bisogna però seguire alcune regole vediamo allora insieme 5 errori da non fare nella preparazione di questa ricetta se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi 1 tagliare l'avocado con il coltello non togliete la buccia dell'avocado col coltello ma tagliatelo a metà per il lungo ruotate le due metà per dividerle e togliete il nocciolo con un cucchiaio sempre con il cucchiaio raschiate la polpa usando la buccia come sostegno 2 usare il primo pane che capita un pane integrale con lievito madre aumenta il gusto e la consistenza del toast grazie alle fibre sazia più a lungo e rende il piatto più salutare attenzione alle quantità non esagerate perché avocado e pane assieme sono calorici 5 esagerare con gli extra il toast di avocado si presta a essere arricchito con molti ingredienti saporiti semi erbe spezie e ortaggi come pomodoro fette di zucchine tagliate sottili uova affettati meglio però non esagerare con aggiunte tipo olio pancetta o formaggi vari si rischia di rendere il piatto troppo pesante e di rovinare il sapore dell'avocado 4 lasciare che la polpa si ossidi l'avocado si ossida molto velocemente una volta tagliato per questo non affettate l'avocado finché non pensate di mangiarlo se dovete preparare la polpa in anticipo per esempio nel guacamole avvolgetela nella pellicola o mettetela in un recipiente e conservatela in frigo 5 tostare il pane nel modo sbagliato il modo migliore di preparare il toast è tostare il pane prima di farcirlo per insaporire il pane lo si può ungere con un po di olio extravergine di oliva e sale prima di grigliarlo per qualche istante bene e ora finalmente vediamo come preparare il perfetto avocado toast si è facile e veloce ingredienti due fette di pane integrale casereccio fatto con lievito madre un avocado sale olio extravergine di oliva succo di limone o lime preparazione tostare a piacere le fette di pane ungerle con un po di olio extravergine di oliva e salarle preparare la polpa dell'avocado tagliandolo come indicato in precedenza prendere le fette di pane caldo e schiacciare con la forchetta la polpa di avocado aggiungere ancora un po di sale e qualche goccia di limone a piacere guarnire con semi di sesamo lino fettine di pomodoro basilico fresco origano per i più affamati si può aggiungere un uovo o dell'affettato di carne bianca o affettato vegetale bene amici oggi abbiamo visto come preparare il perfetto avocado toast commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche ed eccolo il regalino di oggi il pdf con la ricetta perfetta dell'avocado toast lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto dalla piccola i qui in alto vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali